Dal 1 ottobre in Lombardia un test fetale prenatale che prima poteva costare anche 1000 euro ora è diventato gratuito. Grazie infatti ad una delibera della giunta regionale il cosiddetto NIPT test, uno screening del DNA del feto per la prevenzione e la diagnosi delle anomalie, verrà effettuato gratuitamente alle donne in stato di gravidanza che mostrano un rischio elevato di anomalie cromosomiche. La sperimentazione durerà inizialmente 6 mesi e coinvolgerà tra le 1300 e 1600 donne, un primo passo prima che lo screening prenatale venga offerto a regime a tutte le donne in gravidanza. Soddisfatto il consigliere regionale del PD Pietro Bussolati che a luglio aveva presentato proprio su questo argomento un emendamento al bilancio e che da tre anni con il suo partito ha avviato il percorso che ha portato al via libera della sperimentazione. Finalmente una buona notizia, con un semplice esame del sangue si potranno evitare in tanti casi esami invasivi che mettono a rischio anche la salute del feto e quindi tante donne potranno accedere gratuitamente se ovviamente i livelli di rischio lo consigliano a questo esame che oggi costava tra 500 e 1200 euro in base alle strutture. Quindi col sistema sanitario si potrà anticipare problematiche della malformazione del feto e quindi poter intervenire anche per cure che riguardano la donna o ovviamente il feto e il futuro nascituro. È una grande conquista, già in Emilia Romagna c'era la gratuità, finalmente dopo un emendamento a mia prima firma siamo riusciti a ottenere per ora a livello sperimentale la gratuità anche qua in Lombardia di questo test non invasivo. Al momento il Policlinico di Milano è stato individuato come il punto di riferimento regionale di questa fase pilota rappresentando così il centro unico di riferimento in Lombardia.